Musica Su, fatevi sotto, questo è il più grande onore che potete avere, portare l'or di Sant'Eonore. C'ho 50, chi mi dà 60? Grazie per il prossimo, chi mi dà 50? 50 ce l'ho qua. Chi mi dà 60? 60 sempre là. Chi mi dà 70? 70, 70, ce n'è nessuno. 70, 60 va uno, 62, 63. E' così qua per il prossimo. Buonasera Anna, benvenuta a San Manco. Ma scopi, mille di naggi, perché non hanno camminato? E' così qua. 20, 30, 21, 22, 35, signore. Il prossimo si presenterà 21, 30 qua. Allora, vieni, 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 vieni. Sì, è capito! Sì, è capito! Oh no! Oh no! Oh no! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti